Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi ad una nuova puntata di Radio Show. Io 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 io! E la puntata è dedicata agli auguri, quindi mettetevi comodi, abbiamo diversi amici a cui fare tanti auguri. Innanzitutto a Biagio Fanelli, alla nostra amica Maria Cozzoli, Nicoletta Paradiso, Eugenio Ancona, a mio nipote Fabio Pisicchio, Francesco Squatriti, Raffaella Gargiulo, Giovanni Valenziano, Daniele Romanelli e a tutti quelli che oggi festeggiano una qualsiasi ricorrenza. Mi chiedono come partecipare a questa seguitissima rubrica, ve lo ricordo ancora una volta, prima potete farlo tramite Whatsapp inviandovi un messaggio audio-video scritto al numero 347-6215-614. Oppure cercate su Google Vittorio Cassinesi e a seguire ovviamente tutte le mie pagine social sono online come YouTube, Facebook, X, Instagram, TikTok, Twitch e molti altri. Iscrivetevi e spuntate la campanellina in modo tale che quando sono in diretta, come adesso, vi arriva la notifica sul vostro smartphone, sul vostro PC, sul vostro tablet e non vi perdete questo spazio di tanti auguri in diretta e tanto, tanto altro. Ovviamente tutto questo è gratis, quindi cosa aspettate? Iscrivetevi e seguitemi, anzi, oltre a seguirmi, condividete. Grazie a tutti quanti voi per la cortesia e attenzione, ci rivediamo, ci risentiamo per una prossima puntata di tanti auguri a te da Radio Show, yo, 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 yo. Ciao a tutti da Vittorio Cassinesi.